Salve a tutte le amiche della Lio, sono Monica Mastrullo, fisioterapista di Bologna. Anch'io voglio inviarvi il mio saluto tramite il web. Ho avuto l'occasione di sentire alcune di voi in questo periodo per supporto nei trattamenti fisioterapici. Bene, credo che dopo questa lunga quarantena dove abbiamo avuto modo di prenderci cura in maniera importante di noi con l'automassaggio, con l'autobendaggio, con gli esercizi e soprattutto con l'alimentazione, si possa parlare forse di un momento in cui presto torneremo alle nostre abitudini con una consapevolezza diversa, con alcuni accorgimenti diversi che sono necessari al mantenimento della salute prima di tutto personale e poi pubblica, ma voglio credere con speranza che presto avremo modo di rivederci. Noi come studio FV abbiamo in questo periodo avuto l'occasione di leggere, di studiare, ma soprattutto in queste settimane ci stiamo preparando alla riapertura che in Emilia Romagna avverrà per gli studi professionali dal 3 di maggio in poi, se tutto va bene. Ecco, mi rendo comunque disponibile sempre via web, i miei contatti li trovate sul sito della Lio, nelle convenzioni, per eventuali consulti, richieste di parere e quant'altro, ma sapete che stiamo lavorando per ritornare al lavoro, in studio, per far sì che le nostre prestazioni siano il più possibile sicure, attraverso tutti i presidi di sicurezza personali e dell'ambiente. Quindi vi aspetto fuori questa volta e cominciamo a pensare di ripartire. Ciao!